Mi presento, sono Fabrizio Morando, oltre a questa community io purtroppo devo anche lavorare, per cui sono da 20 anni dentro Microsoft e dentro Microsoft lavoro in particolare su tematiche relative all'application iCycle, DevOps, Application Quality e faccio Agile Coaching per portare le enterprise ad adottare i metri di sviluppo Agile e una delle tematiche più calde adesso è proprio la parte di Site Reliability Engineering che introdurrò, mi farà piacere introdurre in questa sessione, con particolare riferimento alle pratiche che i nostri development team adottano su questo ambito. C'è tanta gente che confonde un po' lo SRE, quindi il Site Reliability Engineering, con il DevOps. In realtà hanno tantissimi punti di coincidenza, molti li reputano anche due nomi per dire poi sommariamente le stesse cose, io non sono molto d'accordo su questo. Secondo me SRE è una disciplina che è fortemente categorizzata e fortemente inquadrata, perché ha determinati scopi e determinati obiettivi. In questa presentazione mi piacerebbe proprio intanto dirvi cosa significa fare Site Reliability Engineering e portarvi quello che è la cultura e l'adozione di queste problematiche e di questa linea filosofica adottata dai nostri product team e quindi dai nostri team di prodotto. Io sono in contatto settimanalmente con i team di prodotto che fanno e sviluppano proprio Azure DevOps, quindi la piattaforma di application cycle di Microsoft, offerta sia come servizio sia on-premise. E questi signori hanno cambiato radicalmente il modo con cui loro lavorano, soprattutto in questi ultimi dieci anni, facendo una trasformazione culturale radicale dentro la loro infrastruttura di sviluppo, dentro il loro team, dentro il loro software factory. Quello che mi piacerebbe trasferirvi è un po' come questo team è arrivato, questi team in particolare sono arrivati a adottare questa trasformazione. Ok, questa è l'agenda, allora non copriremo tutto, questa presentazione è lunga, copre tantissimi temi, li vedete tutti esposti, quindi sarà divisa in più parti, quindi in più sessioni. In questa sessione faremo sicuramente che cos'è Site Lability Engineering e come i team Microsoft lo hanno adottato in questi ultimi anni. Parleremo di test best practices in Microsoft, quindi salteremo a una delle ultime voci in fondo. Questi due argomenti poi vedrete sono già abbastanza corposi e lunghetti e immagino che satureranno un po' questa mezz'ora o poco più dove noi staremo insieme in questa sessione. L'idea è poi di coprire gli altri punti che sono un po' un drill down di quello che sono poi le pratiche ingegneristiche che fanno parte del Site Lability Engineering, in particolare tutto il framework di pratiche ingegneristiche che portano al no downtime di una piattaforma, quindi pratiche di deployment, sistemi di deployment che non generano downtime. Se voi pensate a un servizio come Azure DevOps che viene offerto a tutto il mondo simultaneamente, io non posso permettermi di toglierlo anche solo per pochi minuti o per poche ore dall'esercizio perché devo fare un deployment, altrimenti darei il servizio. Non esistendo un concetto di notte, perché quando è giorno da noi è sicuramente notte da un'altra parte o viceversa, da parte del mondo ovviamente, per cui deve esistere un concetto di no downtime deployment. Su questo parleremo poi una volta successiva. Altre informazioni molto interessanti che rientrano sempre nell'ambito del Site Lability Engineering sono i concetti di feature flagging, di progressive exposure di un'applicazione e tecniche tipo lab testing che vengono quasi gratis quando poi entreranno in campo tematiche tipo feature flagging o simili che ci permetteranno di poter contare su due o più sistemi contemporaneamente deployati e simultaneamente deployati in un ambiente di esercizio. Altre tematiche molto importanti sono le tecniche di self deployment quindi tutto ciò che riguarda lo scrivere codice script per poter organizzare i sistemi di deployment remoti quindi infrastructure as code e infrastructure on demand dove io creo e definisco la mia infrastruttura tramite script e tramite codice sin ad arrivare a quello che è il production testing ovvero che prendiamo quasi come il DevOps più pur e più assoluto no places like production quindi io punterò direttamente la mia produzione per fare qualunque tipo di release in totale assenza di ambienti intermedi quindi da noi praticamente spariscono tutto ciò che va sotto il cappello di collaudo di preproduzione non esistono più esisterà un unico ambiente di produzione dove io sparo tutte le mie nuove feature in sequenza in una sequenza ovviamente governata totalmente dai miei sprint quindi le mie iterazioni di progetto che vi preannuncio già sono di tre settimane dopodiché apro la mia piattaforma progressivamente e attraverso dei release gates ben precisi a pletere di utenze sempre più ampie però non voglio soffermarmi su questi argomenti perché saranno poi diciamo saranno poi trattati con dettaglio nelle volte successive ma incomincerai proprio con il definire che cos'è SRE e quindi che cos'è Site Reliability Engine intanto una bellissima frase di Peter Drucker che è considerato il fondatore del Modern Management chi non lo conosce insomma molti di voi probabilmente avranno anche letto dei suoi libri che sono considerati dei pillar ovviamente nel campo del Modern Management è una bellissima frase che è Culture It's Strategy for Breakfast ovvero non esiste strategia aziendale se non c'è un sottobosco culturale assolutamente ampio e assolutamente alimentato continuamente all'interno di un'organizzazione il cambio culturale è fondamentale se si vogliono introdurre principi sicuramente propri al DevOps ma vedremo come il cambio culturale è assolutamente importante e strategico quando si parla di Site Reliability Engine ce l'accorgeremo in seguito perché noi ci abbiamo messo dieci anni per arrivare a trasformare la nostra azienda non piccola per poter fare in modo che i nostri team adottino questi tipi di punti sento dei nomori sottofondo forse qualcuno c'è un mic aperto ok allora Site Reliability Engineering è una disciplina che introduce tecniche di software engineering dentro problematiche che riguardano l'IT operations con che obiettivo? l'obiettivo fondamentale è creare sistemi ultra scalabili e altamente affidabili quindi è riassunta fondamentalmente in questa frase che è molto bella mi piace molto se uno vuole approfondire questo tema io consiglio un po' contro i miei interessi insomma di andarsi a leggere il bellissimo libro di Ben Trainor che è il fondatore della Google Site Reliability Team Google è stato uno dei primi grossi colossi dell'IT che ha adottato queste tematiche dentro le proprie organizzazioni Ben Trainor definisce lo SRE quello che succede quando un software engineer viene chiamato a eseguire quindi a implementare dei task che sono utilizzati per fare attività di operations quali sono queste attività di operations sono ovviamente il mantenimento di queste infrastrutture complesse a piacere che devono supportare il vostro software quindi detta in pochissime parole io che sono parte di un team sono un ingegnere di un team non sarò più responsabile solo di far evolvere il mio software ma sarò anche ugualmente responsabile nel fare in modo che la mia piattaforma che ospiterà il mio software sia sempre efficiente e possa scalare di conseguenza in maniera plausibilmente automatica per fare in modo che il mio sistema sia sempre always on si parlava prima di no downtime deployment ed ecco perché il no downtime deployment è uno dei pillar da affrontare è uno dei target più che uno dei pillar dello SRE e quindi che vengono affrontate proprio da queste tematiche notare che il downtime costa al business attualmente circa 300.000 dollari per ora quindi non stiamo parlando proprio di bruscolini affrontare tematiche di no downtime deployment direi che è un'esigenza molto calda molto sentita anche ai giorni nostri software relativi di engineering a Microsoft allora qui cito una bellissima frase della nostra Lori Lampkin che è il partner director del program management proprio di Azure DevOps che è stata una delle iniziatrici di questo tipo di cultura e una delle persone che ha lavorato di più in questa trasformazione della nostra azienda che ripeto è durata più di 10 anni questa bellissima frase riassume molto i concetti chiave dal quali Lori è partita lei vedeva un team che ragionava in maniera molto tradizionale dove gli sviluppatori arrivavano a code complete poi andavano a casa e lasciavano il tutto la palla magari a valle di un deployment ai team di operations quando lei tornava ad esempio lunedì mattino a vedere cosa era successo trovava questi team di operation che erano praticamente impazziti dietro un deploy magari che ha generato delle regressioni importanti mentre gli sviluppatori erano tranquillamente a casa sono stati tranquillamente a casa senza essere chiamati o importunati e insomma se la passavano liscia come si suol dire in questi casi lei ha preso atto di questo comportamento e ha pensato che se nessuno paga il prezzo quindi se lo sviluppatore che ha generato il problema non paga il prezzo allora non è incentivato a fare in modo che il sistema sia sempre up and running per supportare la sua applicazione e quindi cosa faccio hanno incominciato a chiamarle alle due del mattino questi signori appena si sono sentiti chiamare alle due del mattino magari il sabato sera ad andare lì a risolvere i problemi hanno incominciato a capire l'importanza strategica del fatto di dover gestire anche in maniera attiva e proattiva l'ambiente di riferimento e quindi loro stessi gli sono detti ma io non voglio più svegliarmi alle due di notte voglio io in primis fare qualcosa per fare in modo che la mia infrastruttura sia sempre in piedi da qua è incominciato a nascere il site per la vita in genere parliamo di Align and Autonomy perché è stato un concetto importantissimo in questa trasformazione allora intanto vi do un consiglio la lettura di questo libro che probabilmente anche anch'esso molti di voi conoscono è un libro di Daniel Pink si chiama Drive parla di tante cose ma uno degli aspetti che mi piace sottolineare in questa presentazione è il classico concetto del bastone e della carota perché il bastone e la carota rappresenta un po' uno degli approcci tradizionali di motivazione ad un team quindi sostanzialmente se tu fai il lavoro bene io ti premio con la carota se invece lo fai male io ti punisco già tanti anni fa si è capito che un modello di questo tipo non era applicabile non è più applicabile in un ecosistema moderno che si possa vantare di essere un 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 workplace innovativo e creativo quindi è sempre si è sempre sviluppata una cultura che si è fondata sulle motivazioni intrinseche quindi che deve avere una persona quello che Pink piace chiamare il cosiddetto comportamento di tipo 1 cioè quando una persona è self motivated ovvero deve avere tutte le motivazioni per fare in modo che quello che faccio che io ho la completa libertà possa avere la completa libertà di quello che faccio e io posso anche divertirmi trovare giovamento e soddisfazione in quello che io faccio questo pillar fondamentale ha generato poi le tre famose le tre famose cose che noi andremo a delineare che sono l'autonomy il mastery e il purpose l'autonomy secondo Pink è quando una persona ha bisogno di avere una direzione ben precisa in quello che fa sia nella vita che nel lavoro non stiamo parlando solo e unicamente del lavoro in questo caso e dice che per essere completamente motivati una persona per essere completamente motivata deve essere in grado di controllare quello che fa quando lo fa e soprattutto con chi lo deve fare quindi autonomamente una persona deve poter decidere come far evolvere qualcosa che gli è stato dato come task quindi autonomia non nel decidere cosa fare ma come farlo quando farlo e con chi farlo notate la sottigliezza che c'è soprattutto quando si parla di pratiche di sviluppo agili incominciamo a capire da che cultura da che personaggi visionari queste pratiche sono state poi accolte il master invece è il desiderio continuo di migliorarsi quindi se tu sei motivato dal migliorarti ovviamente vedi te stesso come una persona potenzialmente illimitata da un punto di vista di learning experience per esempio il purpose invece è quando è dare l'opportunità quindi a tutto il tuo team questa è fondamentale dare l'opportunità a tutto il tuo team di vedere sempre tutta la big picture del tuo sistema si tende molto spesso chissà poi perché di limitare la visibilità di un ecosistema di sviluppo ad esempio di un prodotto pensando che quelle persone vedendo meno possono essere più facilmente concentrabili su quello che fanno nulla è più sbagliato la persona che ha la big picture invece è assolutamente più motivata per far evolvere questo prodotto proprio perché sente che il suo tassello che lui ha realizzato è importante per completare un'infrastruttura completa per cui anche questo è uno dei pillar fondamentali del nostro cultural change che adesso io andrò poi a raccontarvi in maniera un po' più approfondita allora la line and autonomy è questo triangolo lo troverete molto spesso con un triangolo con questa linea di separazione l'alignment in maniera molto semplice è quello che succede top down e quindi sono le cosiddette è il cosiddetto line of business quindi che cosa un enterprise si aspetta fare come vuole evolvere il suo prodotto quale feature macro feature devono essere portate all'interno di un'infrastruttura perché probabilmente dovremo rispondere a delle esigenze di business quindi molto spesso questa cosa viene portata all'attenzione dei team dal business l'autonomia invece avviene bottom up quindi fa in modo che le persone abbiano tutte le armi e tutto lo skill e know-how per poter far evolvere nel modo con il quale loro reputano più opportuno le feature e tutti gli oggetti evolutivi che il management attraverso l'alignment vuole portare in campo questo è un bellissimo schema un bellissimo grafico fumettistico però fa capire assolutamente la sottile differenza tra i team che hanno un basso o un alto alignment oppure una bassa o un'alta autonomy parlando solo negli estremi quando c'è un basso allineamento una bassa autonomia esistono dei team totalmente disorganizzati quando si ci alza si ci leva invece sull'alignment si tende ad avere un manager che dice we need to cross the river build a bridge ovvero il manager impone non soltanto l'esigenza da affrontare ma impone anche il modo con cui secondo lui secondo una singola persona il team dovrebbe far evolvere questo ecosistema contrariamente sulla high autonomy esiste un team totalmente caotico che ha comunque un'idea ben precisa su come evolvere la loro applicazione dove il manager praticamente spera che qualcuno si prenda carico del problema ovviamente il top è raggiungere un ecosistema dove esiste sia un alto allineamento che un'alta autonomia ovvero un manager che dice dobbiamo attraversare un fiume figure out how cioè voi dovete decidere il modo con cui con cui arrivare a questo obiettivo allora qui si incomincieremo a vedere il formarsi di team dove con un'alta innovazione un'alta organizzazione è una cultura orientata alla collaborazione finalmente veniamo a come noi siamo organizzati ovvero strategicamente i nostri team sono totalmente cadenzati in piena filosofia agile dove la più piccola iterazione è lo sprint vi dicevo infatti poco fa che ha all'incirca tre settimane di completamento dopodiché ogni tanti sprint sono collocati in dei cicli di un po' più ad ampio spettro che sono i piani le pianificazioni di program che sono che hanno una durata di circa di tre sprint le season che sono di sei mesi e la strategy che invece è lunga 12 anni nelle strategie 12 mesi scusate un anno quindi nella strategy si vengono impostate le vision o le epics di progetto quindi che cosa macroscopicamente il software dovrà fare nei prossimi mesi nella season invece vengono definite quelle che sono le feature di progetto ovvero delle macro feature che poi dovranno essere decomposte in dei use case che hanno nomi variabili tra la user story in una nomenclatura molto vicina all'agile allo scrum oppure il product backlog item che vengono definite all'interno delle pianificazioni all'interno di tre sprint e non oltre i tre sprint come forecasting ed infine nello sprint stesso dove queste user story vengono poi dipanate ed esplose dentro dei task operativi quindi questo è un po' il nostro modello la leadership quindi l'alignment avviene sicuramente nella fase di strategy quindi nella interazione di strategy e impatta molto quelle che è il program management quindi quelle che sono le feature operative all'interno che vengono all'interno ovviamente della pianificazione il team invece si occupa molto di quello che è la decomposizione di queste feature in elementi in use case molto più facilmente realizzabili da parte del team e sicuramente nella decomposizione di queste user story all'interno degli story ok qua vediamo una delle diciamo il triangolo o esploso un po' meglio e categorizzato meglio all'interno degli elementi di lavoro che ci siamo definiti prima quindi l'alignment avviene sicuramente a livello di feature e non inoltre però parte delle feature viene sicuramente acquisita dal team per la decomposizione in story utente dopodiché avvengono dei sistemi più o meno complessi di stima e di estimation ovviamente basati su story point che determinano la complessità un po' di tutto questo ecosistema dalle storie sin alle feature sin ad arrivare poi alle epiche o alla vision team structure allora l'old way quindi sino a parliamo di tanti anni fa sino a dieci anni fa eravamo organizzati in questo all'incirca in questo modo ovvero esisteva un team di program management che faceva unicamente program management quindi quello che poco fa nel triangolo si parlava di alignment l'alignment fondamentalmente lo faceva questo team quindi creava la vision di come doveva evolvere un prodotto e poi esistevano due team ben distinti era il team di dev e il team di testing quindi due team che avevano degli obiettivi decisamente contrastanti e diversi ovviamente il dev aveva un obiettivo evolutivo sulla parte di creazione e implementazione di nuove feature di prodotto e il test dovevano fondamentalmente testare questa piattaforma il nuovo modello è invece questo dove esiste un program management ma un unico engineering team in pratica abbiamo fatto entrare dentro l'engineering team tutti quelli che facevano parte dei team di test non è stata però lo vedremo poi successivamente più in dettaglio non è stata semplicemente portare le persone di test dentro l'engineering team e fare in modo che i tester facessero poi fondamentalmente lo stesso identico mestiere che facevano prima mentre invece i sviluppatori continuassero a fare lo stesso mestiere che facessero prima abbiamo fatto una trasformazione culturale dove ognuna di queste persone è in grado di fare un po' tutto e non si limiterà unicamente alla fase di test o la fase di dev vedremo che esisterà un altro fondamentale skill che queste persone avranno e hanno acquisito in questi anni che è quello della maintenance dei sistemi di produzione in pieno stile SRE quindi in pieno stile SITE Reliabilità Engineering quindi ognuna di queste persone oppure la divisione sostanziale di queste persone quindi da un punto di vista culturale saranno un po' tutti che sanno fare un po' di tutto compresi anche gli operation task ci sono due cultural move che abbiamo fatto in questi anni la prima è la visione orizzontale degli skills sull'applicazione quindi mentre prima c'erano persone fortemente focalizzate sulla UI tante altre sul business logic quindi sull'API di sistema e molti altri ovviamente super espertoni di data management quindi quelli che lavoravano più sulla parte di uno dei più grossi sforzi culturali in prima istanza è stata quella di vedere queste persone e fare in modo che tutti potessero agire su tutti e tre questi layer architetturali ovvero che in ogni momento chiunque potesse prendersi carico di lavorare ed operare sia sulla UI che sull'API e quindi sulla business logic di sistema piuttosto che sul data management è stato uno sforzo veramente molto importante molto grande ci siamo arrivati per noi è stato cruciale fondamentale altro sforzo cruciale quindi questa la salto che quella che io chiamo la second cultural mood è portare come vi dicevo delle ulteriori ruoli e quindi ulteriori skill all'interno dei nostri teams all'interno del program management abbiamo portato tutti gli esperti user experience questo è stato un cambio per noi epocale prima esistevano persone che avevano dei loro team dedicati che si occupavano solo unicamente di come poter governare la user experience di un'applicazione da quando abbiamo capito che questa guidava tutto il nostro business perché era la parte core e fondamentale di come dovevano essere realizzate le nuove uffici del sistema e quindi quelle che raccoglievano più il feedback degli utenti diretto DevOps si basa fondamentalmente e principalmente sul feedback abbiamo deciso di portare queste persone dentro il program management formando di fatto un unico team in ugual modo le persone che una volta chiamavamo di service delivery ovvero quelle che gestivano i sistemi remoti quindi gestivano i nostri sistemi di produzione e di esercizio li abbiamo portati dentro l'engineering team quindi abbiamo creato un unico ruolo un unico team dove all'interno un po' come dicevo prima esistono figure di quality testing figure evolutive e anzi no scusate non figure esistono skill di testing skill evolutivi e skill di service delivery management perché dico skill perché l'obiettivo principale è fare in modo che ogni singolo elemento di questi team sia in grado di poter sopperire o portare avanti attività che riguardano queste tre grosse aree team responsibilities quindi il program manager il program management quindi è fortemente focalizzato su cosa si deve costruire e il perché bisogna poi portarlo avanti al quale io aggiungo anche con che priorità invece il team di engineering è responsabile su come deve essere costruita l'applicazione e soprattutto è responsabile della qualità di questa applicazione dove per qualità non significa soltanto come viene erogata su dei sistemi propriamente di esercizio ma è il mantenimento del servizio stesso che sta adesso a loro completo carico ed è questa è stata un po' la rivoluzione culturale che noi abbiamo portato ok per questo è nato quello che noi abbiamo chiamato il combined engineering ovvero un engineering tuttologo notare che ci abbiamo messo dieci anni per arrivare a formare proprio da un punto di vista di training la figura del combined engineering il combined engineering solitamente si collocano in due fasce chi è un po' più esperto di feature quindi chi è un po' più esperto di portare avanti e evolvere l'applicazione e chi è invece un po' più esperto sul mantenimento di live site sono soltanto due skill c'è tanta gente in questo momento tanti engineer che sono in grado di fare tutte e due queste cose a loro volta i live site engineering si dividono in due grosse aree anche queste vedetele più come skill che come separazione completa tra queste due figure anche perché ripeto moltissime di queste persone fanno tutte queste cose ci sono i feature team live site engineering i cosiddetti LSE e i site relabialenti engineering i cosiddetti SRE ok quindi quelli che lavorano più per il mantenimento dell'infrastruttura quindi fanno in realtà tipo gli SRE fanno più che altro esercizi come live site testing adottano sistemi di chaos engineering ne parleremo poi in dettaglio in altre sessioni molto interessante la parte di chaos engineering quindi il fatto di introdurre dei fault in maniera ovviamente intenzionale dentro dei sistemi per capire come questo come il mio ecosistema reagisce a vari di questi fault e tutta la parte di production telemetry management è tutta carico di questi signori mentre l'LSE che è il feature team invece si occupa più di tematiche come la progressive exposure cioè di governare magari l'accessibilità del mio software a pletere di utenze sempre maggiori sono sicuramente responsabili del no downtime deployment quindi di tutta la parte che fa scopa con il feature flagging piuttosto che sistemi ad alta scalabilità come come dei cluster famosi come Kubernetes piuttosto che altri orchestratori utilizzati all'interno dei nostri sistemi cloud che poi gestiscono in maniera efficiente l'infrastruttura che ospita Azure DevOps quindi questo è un po' la nostra trasformazione il previous model a un modello invece formato dai cosiddetti combined engineering è stato ovviamente un investimento enorme sulla parte di cross rolling vedete poi l'high site engineering come dei sysadmin che hanno incominciato ad avere degli skill di programmazione questi signori qua rispetto a quello che facevano prima che era più che altro staccare attaccare cavi diciamocelo chiaramente hanno incominciato a scrivere dei grandissimi script per fare in modo che questi sistemi auto imparassero dagli errori e potessero diventare dei sistemi di auto healing quindi sistemi che si sanassero in maniera totalmente contestuale e senza intervento umano i fissi things engineering sono più che altro dei tester ai quali e dei tester ai quali gli è stata data il dono dell'application quindi della programmabilità cioè questi signori qua hanno fondamentalmente incominciato a apprezzare il fatto che scrivendosi e facendo implementando questi test in maniera completamente automatica sulla base di script evolutivi potevano raggiungere questi obiettivi in maniera molto ma molto più efficiente quando poi una delle prossime volte parleremo più in dettaglio di quelli che sono le nostre pratiche di testing parleremo tanto di shift left e shift right ovvero non esiste quasi più nulla al centro o facciamo unit o test integration quindi scriveremo dei grandi unit test che magari realizzano anche sistemi di evoluti di integration testing su degli ambienti dove ovviamente tutto lo stack tecnologico è stato implementato però rimangono comunque sempre unit test quindi stiamo parlando di white box testing oppure facciamo production testing ovvero noi portiamo le applicazioni in produzione e facciamo fare dei test direttamente agli utenti finali sempre con quelle strategie basate su release gate e sulle progressive exposure dei quali vi avevo annunciato precedentemente quello che non rimane più al centro sono proprio i cosiddetti UI test sono quasi totalmente scomparsi il fatto di poter mantenere ci siamo accorti durante la nostra evoluzione noi in questi ambiti che mantenere test di UI è estremamente time consuming e molto spesso è molto insomma più time consuming appunto di creare e mantenere questi script che fa eseguire questi script magari a mano o non eseguirli proprio noi abbiamo scelto la seconda strada ovvero non li eseguiamo proprio a parte delle plettore molto piccole che vanno sotto il cappello di smoke testing ma a parte quello facciamo fare tutto agli integration test quindi quasi tutto a pieno appannaggio del team di sviluppo e poi production testing su tutte le pratiche di progressive exposure ultima slide poi chiudo ovviamente spero di avervi fatto venire anche interesse su quelli che poi saranno gli argomenti successivi che andremo a trattare nelle ulteriori sessioni sono i cosiddetti shielding teams uno dei delle perdite di tempo più grandi che ci sono all'interno di un team ma di qualunque organizzazione come voi sapete meglio di me sono i cosiddetti context switch ovvero quando io sto lavorando contro un target con un obiettivo ben specifico quando mi viene sono interrotto perché qualcos'altro è più urgente io perdo più tempo nel fare context switch quindi nel passare da un argomento ad un altro diventare operativo sul secondo piuttosto che implementare effettivamente quella cosa per cui al fine di eliminare dei context switch che però giocoforza per quanto più efficiente possa essere questi context switch ci saranno fate conto a dei blocchi di produzione importanti piuttosto che dei bug dei production bug che sono da risolvere immediatamente perché creano degli servizi se non dei system down a questo punto il miglior modo per affrontare secondo noi questo tipo di problematiche è creare questi cosiddetti shielding teams ovvero alcune persone del team diciamo solitamente non più di due o tre su dei team basati di dieci persone si prendono carico da fare da scudo ovvero sono loro che affrontano per primi che se tematiche e ne cercano una soluzione ovviamente se poi si renderanno conto che devono coinvolgere anche gli altri lo faranno successivamente questo ci ha dato veramente una grossa mano nel fatto che queste persone sentendosi responsabili di questo task magari si sono organizzati sicuramente molto meglio in tal senso è importante anche dire e poi chiudo lasciando magari eventualmente delle domande prima dell'ultimo intervento ci siamo resi conto che un'ottima strategia è quella della rotation ovvero queste due o tre persone da sprint a sprint cambiano sempre quindi in uno sprint saranno tre in un altro sprint saranno altri tre che faranno esattamente lo stesso ruolo ok io chiudo qua anche perché mi sembra che si sia fatta una certa come si dice da queste parti quindi non voglio rubarvi assolutamente altro tempo e lascio giusto magari il tempo se c'è qualche domanda veloce